La decisione dell'Irlanda, anche se non definitiva, va nella direzione dell'assimilazione delle bevande alcoliche al tabacco. Si vuole percorrere quindi una strada in un certo senso di criminalizzazione di un prodotto che certamente presenta delle controindicazioni, delle controindicazioni per la salute, ma che nella tradizione, in particolare mediterranea, presenta anche degli indubbi vantaggi. Non solo per ragioni economiche e commerciali, ma perché il consumo di bevande alcoliche moderato, anche se si dice che non esiste, ma noi sappiamo che abbiamo molti consumatori che sanno consumare in maniera moderata, è in qualche maniera integrabile in uno stile di vita che correla con un risultato migliore in termini di longevità, qualità della vita e anche difesa da alcune malattie, in particolare di tipo cardiovascolare. Quindi massima attenzione nei confronti dell'abuso, massima attenzione anche da parte delle imprese nei confronti del fatto che il bere non solo deve essere moderato, ma all'inizio del bere deve rispettare l'età minima legale, che in certe condizioni bere può essere uno svantaggio per il consumatore, ma evitiamo strategie come quella irlandese che rischiano di essere essenzialmente coercitive e che non vanno nella direzione del convincere il consumatore ad assumere degli atteggiamenti responsabili. Da questo punto di vista, dieta mediterranea, consumo moderato di bevande alcoliche e anche un certo modo di saper fare e saper vivere della tradizione italiana sicuramente è un elemento di maggior tutela che non interventi come quello della legislazione irlandese.